Musica Saranno anche domani davanti ai cancelli i 70 operai della VOS di Osnago, l'azienda ha annunciato la chiusura di uno dei due impianti e non è intenzionata a fare marcia indietro. Musica Rissa ieri sera nel quartiere Lecchese di Maggianico, grave un 35enne di civate preso a coltellate e denunciato a piede libero il figlio del reo confesso per l'omicidio di Olginate. Il lockdown non ha fermato l'attività del centro per anziani Giglio di Lecco, consegnati centinaia di kit creativi per gli anziani soli della città, in arrivo anche una scatola magica per Natale. Musica Uno spazio pomeridiano dove allenarsi e fare i compiti da picco, società Lecchese di Pallavolo lancia un progetto per aiutare le famiglie in questo momento difficile. Musica Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unicale, ecco trascorreranno anche il giorno di Natale davanti ai cancelli della fabbrica. Non si ferma il presidio dei lavoratori della VOS di Osnago, l'azienda ha annunciato 70 esuberi, intanto si moltiplicano i gesti di solidarietà di cittadini e istituzioni. Da giorni vivono fuori dai cancelli, ci passeranno anche Natale, Santo Stefano e Capodanno. A Osnago i 70 lavoratori della filiale italiana della telesca VOS, che ha deciso di delocalizzare l'attività della torneria, trasferendo tutto in Polonia, non si arrendono. La proprietà ha disertato l'ultimo incontro in provincia, dopo non essersi presentata al tavolo del prefetto. Ieri in momenti concitati, con un sindacalista ortato dall'auto dell'amministratore delegato, intanto il paese si è stretto ai lavoratori. Una ditta della zona ha regalato un modulo abitativo, panettoni, frutta, generi di conforto arrivano ad ogni ora, non si molla. La paura è che i camion si portino via ai macchinari. Noi non mogliamo, ieri l'amministratore delegato non si è presentato all'incontro, ha anche tentato di costringerci a dire io mi presenterò all'incontro del 29 in Regione, solo se voi comincerete a fare uscire le merci. E noi gli abbiamo risposto che le merci non escono, perché non si può continuare ad andare avanti col fatto dell'amministratore delegato che tenta sempre di prevaricare e fare solo quello che dice lui. Non mogliamo, rivolgiamo comunque la nostra dignità e quindi no, non mogliamo, saremo qui a Natale, se occorrerà faremo con il Capodanno, l'Epifania e tutto quello che serve, non ci interessa, siamo qua. Grande solidarietà da parte di tutto il paese. Infinita solidarietà, nessuno di noi si aspettava una cosa così, partendo dal sindaco a tutta la giunta comunale, ai semplici cittadini, operai di altre aziende qua nella zona, ci sono stati vicini e hanno dimostrato la loro solidarietà, il circolo Arci, i pensionati di Osnago che vengono a darci anche la disponibilità di venire qua a fare presidio con noi. Sarà un Natale un po' diverso, sarà un Natale un po' più amaro, sarà un Natale comunque in compagnia fortunatamente, perché non molleremo qua al presidio e sarà un Natale comunque di solidarietà. Mai ho visto questo artigliamento di non parlare, a noi non ci hanno detto niente loro. Qui alla Vos lavorano moltissime donne, circa il 50%, ricollocarvi sul mercato per voi sarà difficile? Sarà durissima, anche perché abbiamo tutti e tanti anni che lavoriamo qua. State facendo i turni, giorno e notte, presidio fisso? 24 ore su 24, tutti i giorni, tutto il giorno, sempre. Passiamo alla cronaca, accoltellamento ieri sera nel quartiere Lecchese di Maggiani, con la rissa scoppiata nei pressi di un bar. Un 35enne di Civate si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Manzoni per ferite di arma da taglio. Principale indiziato, per ora denunciato a piede libero, è Michele Valsecchi, 25enne di Calozio, figlio di Stefano, reo confesso dell'omicidio di Salvatore De Fazio. Avvenuto mesi fa a Olginate, il giovane è stato rintracciato dai carabinieri subito dopo l'accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il diverbio è scaturito per futili motivi e poi degenerato. Sull'episodio sono in corso indagini. Approvati i progetti in ambito storico-artistico del Fondo per lo sviluppo del territorio lecchese, promosso da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria. 60 i siti protagonisti, 462 mila euro, il contributo erogato. Approvati i progetti legati alla secondazione del Fondo relativo alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio lecchese. 20 progetti, 44 traenti del terzo settore, parrocchie ed associazioni coinvolte, 60 siti artistici protagonisti, 462 mila euro, il contributo erogato. Un territorio vivace e creativo che non smette di credere nella cultura come driver di crescita e sviluppo. Il ritratto delle chiese che emerge dal bando, interessati musei e chiese, lungo un ideale dorsale che dalle ultime propaggini del Meratese si estende fino all'Alto Lario, passando per i piani Resinelli e lungo il sentiero del Biandante. Il fondo nasce dal protocollo d'intesa siglato per volontà dei comuni soci di Lario Reti Holding e della Fondazione Comunitaria delle Chiese il 23 dicembre 2019. In gente la dotazione economica del fondo, che ha un orizzonte quinquennale, 2 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni messi a disposizione dai comuni soci di Lario Reti e 500 mila dalla Fondazione Comunitaria. Obiettivi sono la crescita e lo sviluppo ambientale, culturale e anche turistico del territorio tramite due azioni di sistema. La prima, Bandita, lo scorso maggio ed in corso di realizzazione, legata alla manutenzione e alla promozione dei sentieri e delle piste ciclabili. Ritrovare e rilanciare l'arte e la cultura, afferma Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria delle Chiese, che abitano fuori dalla porta delle nostre case e delle nostre comunità. Questa è la bellissima sfida che sta appassionando angoli nel nostro territorio, un territorio, quello le chiese, ricco di una storia popolare, che ha voglia di farsi conoscere. I progetti pervenuti ne sono la conferma, il protocollo d'intesa siglato dall'Ario Reti Holding e dalla Fondazione, una collaborazione da continuare. È per noi un grande piacere farci portatori dell'innovazione socio-territoriale che i nostri soci comuni hanno voluto avviare con la creazione di questo fondo, commenta Lelio Cavalier, presidente di Lario Reti Holding. Questo progetto, una grande iniziativa tutela del territorio, a vantaggio dei cittadini, delle imprese e dell'intera provincia di Lecco, trova molte similitudini con ciò che è e sempre più vuole essere la nostra azienda. Grave incidente questa mattina sulla superstrada 36 in direzione Milano. Una Fiat 500 è andata completamente distrutta. Per estrarre la donna rimasta imprigionata nell'abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La 47enne è stata ricoverata in codice giallo al Manzoni. Cambiamo argomento. Il lockdown non ha fermato le attività di promozione sociale rivolte agli over 60 del centro Il Giglio di Lecco. In queste ore la consegna di oltre 100 kit creativi agli anziani della città, insieme anche a una speciale scatola magica, con un pensiero positivo al giorno per non sentirsi soli durante le feste. Nonostante il lockdown, l'attività del Giglio non si è mai fermata e anche in questo Natale siete riusciti a raggiungere moltissimi anziani, più di 150, grazie a un'iniziativa davvero particolare. Noi ci siamo mobilitati quando abbiamo capito che già da ottobre con la zona rossa non avremmo potuto riprendere le attività qui all'interno del Giglio in presenza. Quindi abbiamo ripensato e trovato il modo per fare a casa le persone degli stimoli per mantenersi attivi e comunque continuare a partecipare a quella che è la vita del Giglio anche a distanza. Quindi kit lana legato a dei progetti di solidarietà col Peru o contro la violenza alle donne. Kit movimento perché è importante, ci siamo accorti che le persone un po' si stavano fermando, avevano veramente bisogno di uno stimolo per poter riprendere a muoversi anche in casa con degli esercizi molto semplici e poi il kit colori per tenere viva anche un po' la possibilità di essere ancora creativi, espressivi da casa. Quindi abbiamo fornito questi kit in buste separate perché le persone in base ai loro interessi potevano anche non essere interessati all'uno all'altro. Mentre la cosa che abbiamo cercato di consegnare a tutti e siamo disponibili ancora a gennaio poi a raggiungere le persone che sentiranno questa proposta e che non abbiamo potuto raggiungere, una scatola. Questa scatola è un po' un contenitore di tanti ingredienti per passare un periodo sereno. Come spieghiamo nella lettera, noi diciamo che gli attrezzi rappresentano un po' le competenze, la storia che ogni persona ha e noi abbiamo fornito degli ingredienti. Mettendo insieme queste cose le persone ci auguriamo trovino un po' di pace, un po' di benessere e anche un po' di voglia di guardare al futuro con speranza. Quindi semplicemente ogni giorno pescando un biglietto le persone troveranno uno stimolo diverso. Nonostante il lockdown e il distanziamento fisico, l'equipe del Giglio e l'amministrazione comunale hanno voluto dare un segno di vicinanza importante per gli anziani della nostra città. Oggi scopriamo che l'Ecco è la città più anziana d'Italia, ovviamente lo sapevamo già e per questo l'amministrazione si era già attivata da tempo con questo luogo, il Giglio, un luogo importantissimo dove si riescono a fare interventi intergenerazionali mettendo insieme le varie generazioni della nostra comunità e dare segnali di presenza concreta alle persone più anziane della nostra città. La società Pallavolo a Lecco Alberto Picco ha presentato il progetto School Camp, uno spazio pomeridiano per compiti e attività sportive a sostegno delle famiglie del territorio. La società Pallavolo a Lecco Alberto Picco, che nel 2021 spegnerà 50 candeline, promuove il progetto Picco School Camp, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunitaria dell'Ecchese sull'esempio positivo dei Summer Camp. L'iniziativa si rivolge ai bambini delle scuole elementari e medie da una durata di sei mesi, da gennaio a giugno 2021. A disposizione come spazio dove svolgere compiti e praticare attività sportive il Palataurus di Lecco. Una bellissima iniziativa ideata ovviamente come al solito da un gruppo di persone su idea del nostro direttore sportivo Alessandro Alippi. Per noi Picco ovviamente gli obiettivi non possono che essere ambiziosi da un punto di vista sportivo ma vogliamo cercare di raggiungerli anche senza dimenticare ovviamente il territorio, il movimento giovanile e soprattutto quello che da anni abbiamo scritto, diffuso eccetera che vogliamo perseguire famiglia, scuola e pallavolo. Devo dire che io sono rimasta molto colpita da questo progetto che mi è piaciuto tantissimo proprio perché mette al centro il ragazzo nella sua totalità. La conoscenza e la curiosità di imparare è comune sia nell'aspetto sportivo che nell'aspetto più scolastico per cui questo mettere insieme vuol dire far cadere come delle categorie. I bambini, i ragazzi sono un tutt'uno e l'unità diciamo della persona, del conoscere rispetto alla passione sportiva sono un'unica posizione umana che è vincente, specialmente in questo momento di fragilità. È un progetto al quale noi come amministrazione comunale guardiamo con molto interesse perché va proprio nella direzione che stiamo cominciando ad abbozzare cioè l'idea innanzitutto che sport e scuola possano comunicare e possano collaborare per il bene più grande che è l'educazione dei nostri ragazzi, dei ragazzi della città di Lecco per cui davvero un grosso grazie alla società Picco per aver pensato a questo progetto. 11 televisori per i pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale San Gerardo è un panettone a tutti i dipendenti della SST di Monza e vi mercate sono i regali di Natale di Cancro Primo Aiuto associazione da 25 anni al fianco dei malati di tumore dei loro familiari. Sarà un Natale meno difficile per i degenti del reparto di oncologia dell'ospedale San Gerardo di Monza. Cancro Primo Aiuto, associazione da 25 anni al fianco dei malati di tumore dei loro familiari ha raccolto l'appello di medici e infermieri, ha donato 11 televisori che sono stati installati nelle stanze dei degenti costretti per via del coronavirus a non poter nemmeno incontrare i propri parenti. Cancro Primo Aiuto ancora una volta è venuto incontro alle esigenze dei pazienti degenti in oncologia che in questo momento non hanno la possibilità di vedere i loro parenti e ha fatto un bel regalo di Natale perché questi televisori danno la possibilità ai nostri pazienti di passare le lunghe ore in ospedale in questo periodo che rimane le gente in ospedale a Natale e si sa soprattutto in questo momento ha dei problemi importanti e seri. I televisori saranno inoltre utilizzati anche dai pazienti del reparto di nefrologia. Anche i pazienti nefropatici, soprattutto idealizzati, ricoverati hanno bisogno di avere anche momenti di svago e di distrazione un elemento come una televisione in camera sicuramente migliora la loro permanenza e la loro benessere in questo reparto. Per cui grazie davvero all'associazione che ha fornito e che ha dato anche a noi questa possibilità. Gli 11 televisori sono solo uno dei regali di Natale promossi dall'associazione che ha deciso di donare anche Panettoni e i dipendenti degli ospedali di Monza e di Vimercate. È bello vedere una sinergia, oltretutto per quanto riguarda i Panettoni che saranno frutto di un sostegno economico da parte di Lombardo Motori con BMW oggi, auto avanti, insomma una sinergia che accomuna chi fa del bene nonostante siano anche in concorrenza per quanto riguarda l'attività. Questo è bello, è la forza del Canco Primo Aiuto che riesce a unire con degli obiettivi comuni per il bene comune. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con Gruppo Tigros e Lombarda Motori. Per domani la nostra emittente vi propone diversi appuntamenti per celebrare insieme il Natale alle 10 in diretta dalla Basilica di San Nicolò. La messa a mezzogiorno e alle 21 vi proponiamo un concerto del Colo e l'Ichia. Nel corso della giornata anche puntate speciali delle nostre trasmissioni ti ricordi e di itinerari dedicate appunto al Natale da segnalare infine alle 14.20, alle 20.20 il documentario dedicato all'alpinista Marco Anghilevi. Una bella sorpresa per i bambini della scuola di infanzia Gianni Locatelli. Di chiuso in un anno in cui feste, recite e natalizie sono saltate a causa Covid Babbo Natale e le maestre hanno citofonato ogni bambino a bordo di una slitta speciale. Vediamo. Addobbare l'albero e il presepe, aspettare Babbo Natale, scartare i regali e ascoltare le canzoni natalizie. Per i bambini il Natale è un momento magico da vivere in famiglia ma anche con gli amici dell'asilo o di scuola. Quest'anno l'emergenza Covid ha bloccato tante iniziative. Feste e recite sono state ridimensionate se non rimandate all'anno prossimo. Ma le maestre sanno bene che anche quest'anno i bambini hanno atteso con gioia questo momento e alla scuola dell'infanzia Gianni Locatelli di chiuso hanno avuto un'idea speciale per festeggiare insieme. Quest'anno abbiamo deciso, visto che non è possibile fare una festa in presenza come tradizionalmente avviene nella nostra scuola, abbiamo pensato di andare noi insegnanti nelle case di ogni bambino della nostra scuola, sia della materna che del punto gioco, proprio per far vivere ai bambini l'attesa del Natale, la gioia del Natale, e lo stupore che spesso li contraddistingue. Abbiamo creato questa slitta in cartone con un popazzo di Babbo Natale corredata da luci proprio per dare un po' l'idea, l'immagine e tenere viva l'idea della magia del Natale. Ma soprattutto il gesto importante è quello proprio di recarci nelle case dei bambini e delle famiglie per dire la vicinanza della scuola anche in questo momento dove purtroppo dobbiamo essere un po' isolati. Abbiamo preparato con la cuaca dei biscottini da dare loro, abbiamo pensato un biglietto personalizzato di auguri ai bambini e alle famiglie e l'invito perché poi prima di Natale vivremo un momento di festa solo con i bambini perché con le famiglie non è possibile all'interno della scuola e del punto gioco. Ci sarà un momento dove ogni bambino preparerà un regalo speciale per un amico dell'altra classe perché con i protocolli sanitari che ci impediscono di lavorare per intersezione i bambini vivono nella loro classe e poi ecco vivremo un pranzo molto speciale con un salone addobbato a festa, della musica, le tovaglie belle e un menù particolare che piace ai bambini, molto goloso che la nostra cuoca sta organizzando e ci sta preparando. E termina qui questa edizione del nostro notiziario vi ricordo la possibilità di rivedere i servizi andati in onda sui nostri social e sul nostro sito vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo telegiornale a nome di tutta la redazione e di tutti i tecnici vi auguro un sereno Natale. Grazie a tutti.